Questo rapporto conferma che la dimensione ottimale per lo sviluppo è la media impresa, quindi manda un preciso messaggio non solo alle imprese ma soprattutto alle banche che la devono sostenere che le piccole devono crescere e laddove questo fenomeno non si è ancora realizzato, le piccole che crescono, nel mezzogiorno si sta realizzando un sottomezzogiorno, una nuova forma di mezzogiorno, cioè il gruppo delle industrie che non riescono a aumentare la dimensione per diventare imprese competitive sul mercato ed esportare la competizione non è solo competizione interna ma internazionale.